della zona di Bra, l'ASCOM probabilmente la numero uno, la prima a livello nazionale in termini di attività, di servizi, 106 dipendenti e collaboratori, sicuramente la prima in Italia in rapporto alle attività svolte e il potenziale del territorio che rappresenta e quindi molto volentieri intervengo anche perché alcuni articoli che sono apparsi su alcuni giornali non hanno reso giustizia su quello che rappresenta il tessuto economico della città di Bra. Noi attraverso le nostre sbagliate attività, le nostre tre sedi operanti in Bra abbiamo contatti quotidiani con centinaia e centinaia di operatori, centinaia di imprese, migliaia di persone che per motivi diversi, per l'attività imprenditoriale, per la formazione, per l'utilizzo dei servizi, per i consigli che chiedono quotidianamente, per il conforto anche in alcuni casi, in un momento anche non facile. Abbiamo la contezza di poter esprimere proprio dal risultato di questi colloqui che abbiamo da adesso, che il tessuto economico della città di Bra, un tessuto sano, naturalmente auguriamo e siamo anche molto vicini a persone che stanno affrontando una prova molto difficile e siamo sicuri che la giustizia farà il suo corso e renderà giustizia su quelli che sono i fatti avvenuti. Ma proprio per quello che è apparso all'esterno credo che sia doveroso sottolineare il fatto che le imprese che noi rappresentiamo, del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni sono imprese rappresentate da persone sane, sani principi che svolgono con difficoltà magari la propria attività. E anche in questo, come Confindustria, come l'intervento che è avvenuto prima, il tema della legalità è un tema molto sentito anche e soprattutto dalla nostra organizzazione, dalla nostra Confcommercio nazionale che non da adesso ha lanciato e svolge un'attività molto intensa sul porre l'allerta a quelli che possono essere fenomeni pericolosi, di criminalità che si può insinuare in realtà piccole, medie o grandi. Anche qui ogni anno a novembre c'è una pubblicità sui giornali molto forte, viene realizzata la giornata della legalità, che il nome legalità mi piace, ogni anno tutte le nostre articolazioni si confrontano a livello territoriale, con gli operatori, sentono le esigenze, sentono i problemi, raccolgono istanze che poi vi vengono portate in un documento che ogni anno viene presentato in ogni provincia d'Italia, alle prefetture e poi al governo nazionale.